Cesare Ianni dell'Associazione Iemonnanzi L'associazione che insieme ad altre associazioni in questi anni si sta battendo per una rinascita, per una città più bella Però l'Associazione Iemonnanzi parte dalle mura Tu Cesare hai detto più volte il vero, il grande monumento di questa città sono le mure Sì, il nostro gruppo insieme a tante altre associazioni si sta battendo da anni per la riqualificazione e la valorizzazione In fondo possiamo dire la scoperta di questo incredibile monumento che noi definiamo appunto il monumento mura Noi siamo una città murata ma non sapevamo di esserlo Perché se andiamo a riflettere fino al 6 aprile 2009, fino a prima del 6 aprile 2009 Gli aquilani non avevano una reale contezza delle mura Perlomeno queste non venivano considerate tali Mentre oggi si sta creando proprio nella collettività la consapevolezza di questo bene straordinario La cinta muraria della città dell'Aquila dovrebbe essere la cinta muraria trecentesca forse meglio conservata in Europa Ora questo è un valore oggettivamente inestimabile Ed è veramente bellissimo che ci siano tante associazioni ma soprattutto ormai tanti cittadini sensibili Verso questo monumento e verso il recupero e la valorizzazione dello stesso Qual è il giudizio di Italia Nostra sulla ricostruzione dell'Aquila visto che sono passati ormai dieci anni? Un giudizio complessivo oggi è ancora difficile darlo Noi abbiamo fatto alcune considerazioni su come sono andate le cose In particolare per quello che si vede E io sono d'accordo con quello che dice il professor Colapietra La città sta rascendo come una quinta di teatro Cioè è più nuova sicuramente ma non è sicuramente più bella di quella che era prima A questo proposito noi abbiamo fatto un dossier preciso che è recuperabile ancora sul sito di Italia Nostra nazionale Dove mettiamo in luce alcune cose Una per tutte, ce ne sono tantissime, una per tutte, i colori Il colore di questa città è quasi, se guardiamo il corso vecchio È uguale, è uguale, è un, come si dice, possiamo dire, un biagetto Non c'è lo spirito, non c'è un progetto per il colore Una questione forse ancora più importante, i parcheggi Chiaramente questa città se deve essere penalizzata avrà bisogno di parcheggi Ci sono già delle proposte e voi avete già espresso alcune perplessità su alcuni di questi progetti Per esempio San Bernardino Dobbiamo decidere, se la città va penalizzata I parcheggi non possono stare al centro, è una contraddizione in termini Fare il parcheggio al centro è controproducente Poi questo parcheggio nasce negli anni 90 È ricicciato nel 2008, riciccia ancora adesso nel 2018 Sono passati 20 anni le considerazioni sociali, politiche, di sensibilità Forse sono diverse Allora noi diciamo, ragioniamo sui parcheggi Facciamo i parcheggi di relazioni esterne alla città Perché questa città ha una dimensione cardo-dicumanica di circa 1.500 metri quadri E 1.500 metri quadri si possono fare tranquillamente a piedi tutti Chi non lo può fare? Piltà sì, ma sono tanti pochi Piltà sì, ma sono tanti pochi